Depurazione industriale Approvata all'unanimità la proposta di legge che abroga l'emendamento finito nell'inchiesta Cheu Un lungo e acceso dibattito ha portato nella seduta del Consiglio regionale di mercoledì 26 maggio all'approvazione con voto unanime della proposta di legge che prevede l'abrogazione dell'emendamento in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale finito nell'inchiesta Cheu della Procura Antimafia di Firenze sul traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto Conciario di Santa Croce sull'Arno. Questa legge è lo strumento necessario per garantire un sistema misto rispettoso delle norme e della tutela dell'ambiente, obiettivi che perseguiva lo stesso sistema degli accordi di programma che negli anni hanno disciplinato il sistema della depurazione delle acque, dei sistemi produttivi distrittuali del tessile, della meccanica e del Conciario. Così ha dichiarato la Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Rubertis illustrando la proposta di legge all'Aula. Con la nuova legge abbiamo cancellato l'emendamento quindi siamo ritornati al testo originario, sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione. Dal punto di vista pratico nulla, nel senso che poi l'emendamento come è ben noto non è stato mai quanto previsto, l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende, che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe. Tutti gli impianti, così come adesso, saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro. Sono il presidente della commissione che ha dovuto esaminare questa proposta di legge che ci è arrivata dalla Giunta, lo abbiamo fatto in due sedute perché io ho ritenuto opportuno rinviare la prima volta perché effettivamente le domande anche molto tecniche che venivano poste da alcuni commissari avevano bisogno di un chiarimento perché poi a prescindere da come uno vota, che è chiaramente libero di esprimere in sede di votazione, io comunque devo mettere tutti in condizione di capire. Questo è l'obbligo che io mi sono data, mettere i commissari nella condizione di esprimere al meglio la propria votazione, consapevoli di quello che votano e ho ritenuto durante la prima commissione che non ci fossero gli elementi di chiarezza, che invece con la presenza del presidente Gianni, dell'assessore Monni e dell'avvocato Bora nella seconda seduta davvero è stato chiarito tutti. Rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso quantomeno nel profilo interpretativo che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni. Ecco, io quando mi sono reso conto che saremo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative, il 7 di luglio ho detto chiudiamo, chiudiamo tagliando la testa al toro, evitiamo che vi sia questo conflitto ma manteniamo il profilo più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste. C'è una gerarchia delle fonti e devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto, ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa, nel maggio del 2020, la conferma dell'interpretazione di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta con una delibera dell'allora giunta, quella che mi ha preceduto il 7 di agosto, l'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno, ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discorso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste, il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità. Innanzitutto che c'è bisogno di un chiaramento in casa PD perché abbiamo visto anche il segretario regionale Bonafè che ha detto che convocherà una direzione per parlare dell'argomento. Finalmente si sono svegliati, finalmente si sono resi conti di questa problematica e l'affronteranno internamente, anche perché mi sembra che dalle dichiarazioni dell'ex Presidente Rossi qualche cosa che non torna. Cioè innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la razza per cui quell'emendamento è stato approvato perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula, come portavoce dell'opposizione, ho chiesto che il Presidente della Commissione d'inchiesta, appena nominata la consigliera Elena Meini, audisca per primo proprio l'ex Presidente Rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della razza politica perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave perché sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex Presidente Rossi che oggi dichiara alla stampa, il Presidente Gianni mi doveva difendere, mi doveva difendere in maniera più forte perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la Giunta Rossi. Allora cos'è questa una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando? Questo è il PD che governa oggi la Regione Toscana? La Regione Toscana si merita oggi questo? Noi votiamo in modo favorevole a questa PDL perché non c'è dubbio che dal punto di vista formale vada corretto un gravissimo errore voluto politicamente dal PD all'interno di quella legge. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali politiche che noi riteniamo inaccettabili. Noi come si ricorda quell'emendamento non l'abbiamo votato arrivo in fondo nessuno ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava mandata all'avvocatura in quel senso e siamo arrivati ad oggi quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri quell'articolo 13 bis. Qual è quindi il dato? Il dato è politico, il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna portando in aula questa legge. Ecco questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa. La vicenda non è chiusa oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati che sono oggetto dell'indagine della direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un sistema quello dei rifiuti in Toscana che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servizi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. Questo non è più tollerabile perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita e di sviluppo e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di nuovo a Conciatori. In realtà di noi gliel'ha detto l'ARPAT perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la via sia soprattutto l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione nel 2017, nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata, resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico, locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici. E soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare a Toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come diciamo prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici, non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone, ma soprattutto del perché si sia andato in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. Grazie a tutti! Grazie!